Amici e amiche di Player Inside, siamo qui subito dopo la live che abbiamo seguito insieme a tantissimi di voi dell'Xbox Game Showcase, signori, è stato un evento meraviglioso, indipendentemente dalla simpatia o antipatia che potete avere per questa o quella piattaforma, che è una cosa che sapete, non è di casa su questo canale, è stato un evento fantastico, pieno di giochi di World Premiere. Esatto, siamo contenti perché avevamo poche speranze per questo non E3 di quest'anno, comunque si è aperto con Call of Duty Black Ops, in questo momento c'è anche il Direct con dell'approfondimento, magari se è il caso faremo un video dedicato al gioco e lo state vedendo qui nel trailer. E sarà disponibile dal 25 ottobre su Xbox Game Pass, quindi fin dal Day One. Passiamo adesso, vedete questo video è un po' più in presa diretta, signori, siamo ancora abbastanza emozionati perché è stato presentato anche un nuovo Doom, e parliamo di Doom The Dark Ages, l'abbiamo chiamato all'inizio Doom Medievale. Che poi non è medievale, in realtà si spara e tutto, però ha pure quell'atmosfera un po' più fantasy, coi draghi addirittura. Sì sì, c'è addirittura una scena in cui lui sputa il fuoco dentro la bocca di un drago, comunque ragazzi, molto tipico delle atmosfere di Doom, forse ancora più gotico, veramente molto gruesome, molto cruento, fantastico ragazzi, almeno per quello che sembra, lo aspettiamo e dobbiamo aspettare, il 2025 sarà disponibile dal Day One sul Game Pass, anche questo, su PC, Xbox e Xbox. Sviluppato sempre da ID questo. Sì, ID Software, ricordiamo, è sotto Bethesda. Abbiamo visto anche State of Decay 3, State of Decay 3 però non ha ancora una data, sembra comunque migliorato tecnicamente rispetto a State of Decay 2, e ci mancherebbe altro perché sono passati forse 5 o 6 anni addirittura, che è comunque un altro dei titoli in esclusiva Xbox. Esatto, che arriverà anche questo al Day One nel Game Pass. Al Day One nel Game Pass. Allora ragazzi, a sorpresa mi hanno fatto vedere Dragon Age The Veilguard, che come sappiamo sarà svelato il gameplay martedì, ovviamente seguirò tutto in diretta. Ci sarà un approfondimento di Middlina, attenzione. Chiaramente qui hanno mostrato i personaggi, quindi con un gameplay, non è un gameplay, con un filmato in engine, hanno fatto vedere i vari personaggi, tra cui anche Varric, che è appunto un veterano della serie, rappresenta anche l'Inquisition. E' fighissimo perché è invecchiato leggermente, però ecco, uscirà quest'anno ragazzi. Nel 2024, ci ha sorpreso il fatto che esca già nel 2024. In autunno. Autunno 2024, senza una data precisa, questo è in molti piattaformi, insomma, ma non vediamo l'ora ragazzi, non vediamo l'ora. E poi abbiamo visto anche la nuova espansione di Starfield. Shutter Space, che sembra che si possa concentrare sui Varun, insomma è molto più dark di quanto sembrasse all'inizio. Uscirà ovviamente anche questo nel 2024, ma la cosa che ha stupito più che altro è stato l'annuncio di un update già oggi. Quindi già oggi ci sarà un aggiornamento con nuovi contenuti, il creation kit, quindi ci saranno possibili le mod adesso, ufficialmente supportate. E quindi dopo questo video, anzi dopo il PC Gaming Showcase che si terrà adesso, sicuramente andrò a provare l'espansione. Sì, Midrina, comunque è qualcosa che ci interessa. L'aggiornamento, sì sì sì. Ecco, so che Starfield non ha avuto una ricezione fantastica, però è in dubbio che ci stiano comunque continuando a lavorare ed ascoltando anche i giocatori. Passiamo adesso a un'altra cosa di Bethesda, un altro fiore all'occhiello di Bethesda, ovvero la serie Fallout. È velocissimo perché qui si tratta dell'espansione già stra-annunciata di Fallout 76, ovvero Skyline Valley, che arriva proprio adesso a giugno. Il 12 giugno. Quindi semplicemente questo era un modo per annunciare la data d'uscita di questa espansione. E hanno fatto bene, un bel memorandum diciamo, bello robusto, con un trailer tra l'altro anche con le pubblicità in vecchio stile. Ragazzi questo, Claire Obscure Expedition 33, ci ha sorpreso molto. È sorpreso perché è un RPG a turni, sembra, molto action, molto cinematografico. Ecco, tra l'altro... Fa vedere un po' il gameplay. Sì, faccio vedere un po' il gameplay. Volevo farvi vedere, a parte anche graficamente, sembra molto interessante. Le ambientazioni molto suggestive, a metà strada tra il fantasy e il surreale. E poi ragazzi, il combattimento mi attira parecchio perché sembra turni, ma non troppo. Sembra avere un po' di commissione. Ha molto di persona, anche come, diciamo, le animazioni, anche l'HKUD, anche se poi ovviamente ha uno stile completamente diverso. Mi ha gasato, cioè non mi aspettavo questo tipo di gioco così. Obiettivamente sembra interessante. Siamo tornati ai periodi delle tre, ovvero quando i titoli a sorpresa venivano annunciati e stupivano per il modo in cui si presentavano. Devo dire che questo ci rientra a pieno diritto. La storia sembra, insomma, concentrarsi su una coppia. È lui che deve prevenire la morte di lei. Insomma, sembra una cosa molto toccante. Vedremo. Vedremo, ragazzi, buone speranze in questo. E poi abbiamo South of Midnight. Ecco, anche questo si era già visto, ma guardate che stile. Sì, guardate che stile. Abbiamo questa sorta di stop motion che quindi fa percepire il frame rate come un po' ballerino, ma in realtà è proprio quello che vogliono, cioè è proprio lo stile del gioco. E poi i personaggi, le location, sembra un po' la Louisiana degli anni 50. Non so se sia effettivamente questa. Comunque South of Midnight, interessantissimo, già quando era stato presentato la prima volta, uscirà nel corso del 2025. Dal The One nel Game Pass. Questo è più un action adventure classico. Ad alcuni ha ricordato Kena un po'. Sì. Ci può stare, ma non troppo, ragazzi, perché, vabbè, secondo me ha la sua personalità e ne ha da vendere. Anzi, è lo stile che mi piace moltissimo. Signori, proseguiamo con World of Warcraft. È stata presentata l'espansione, ovvero The War Within. Ecco, questa è una notizia che interesserà agli appassionati World of Warcraft, che è storico. Se qualcuno pensava alla versione console, invece no, questa è proprio un'espansione per PC che uscirà il 26 agosto di quest'anno. Del 2024. Ma, attenzione, perché anche Konami questa sera ci ha stupito, con Metal Gear Solid Delta, più che ci ha stupito, diciamo che abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Non ci ha deluso. Non ci ha deluso troppo, perché effettivamente questo trailer sembra ben fatto. Ecco, ci fa vedere anche un gameplay che, per quanto rispetti un po' le rigidità, vedi, delle meccaniche, di movimenti e le movenze del classico Metal Gear Solid 3, però graficamente si presenta abbastanza sontuoso nel pieno rispetto di quella che è l'opera originale di Kojimian a fattura. Speriamo che lo sia, chiaramente, anche pad alla mano, ma quello che vediamo. Non ci ha deluso affatto. Non ci ha dispiaciuto affatto, ragazzi. Anzi, anzi. Però non c'è ancora una data. Non c'è una data d'uscita. Non c'è affatto l'effetto Silent Hill 2 remake. Ecco, quello no. Se ne è un altro no. Passiamo adesso a Sea of Thieves, un'altra espansione, anzi, la stagione 13, ragazzi. Questa serie che era partita un po' così e che, vi ricordate, noi non eravamo esaltati per Sea of Thieves al lancio nel 2018, ma che nel frattempo si è arricchita prepotentemente già solo per i contenuti su Monkey Island, per me vale la pena di essere provato ed essere giocato. E, tra l'altro, adesso è anche su PS5 ed ha riscosso anche lì un discreto successo. La stagione 13 che arriverà dal 25 luglio 2024. Passiamo adesso a Flintlock, The Siege of Dawn. Anche questo, a modo suo, è interessante. Sì, questo è un Souls Light. Souls Light. Ma comunque era molto dinamico, visto le movenze nel combattimento. Perché qui abbiamo una protagonista donna. Ci sono state molte protagoniste donne stasera. Sì, che tra l'altro fonde le sue abilità, specie quando vola, con questa sorta di carbancol, che non è un carbancol, però, con questa sorta di furetto volante a metà strada. Sì, perché all'inizio abbiamo visto queste fasi un po' più esplorative. Più action. Più action, sì. E poi si è concentrato maggiormente sui combattimenti, come stiamo vedendo adesso, appunto, un Souls Light che uscirà il 18 luglio 2024. Quindi, ragazzi, tra un mese. Tutta roba fresca, tutta roba fresca. E' meno fresco la versione Retold di Age of Mythology. Però, per gli appassionati, ragazzi, Age of Mythology è uno degli strategici più importanti di sempre. E uscirà la versione Retold il 4 settembre del 2024. E devo dire, ragazzi, che se io avessi più tempo, me li giocherei molto più volentieri tutti questi giochi, gli strategici, solo che sono molto time spending. Altro titolo, per cui... Ah, finalmente abbiamo visto Perfect Dark. Abbiamo visto Perfect Dark, ma andiamo a vedere un po'. La sezione di gameplay è abbastanza ampia, perché comunque è tutto in prima persona, ci sono viste parti di parkour, di stealth. Un po' alla Mirror's Edge, alla Dying Light. Esatto. Però, con tanta più personalità di quanto non ne avesse Perfect Dark Zero, che è stato, appunto, l'ultimo episodio di Casa Rare per Xbox 360, di certo non entusiasmante. La possibilità anche di scansionare l'ambiente, di vedere nemici, anche attraverso i muri, una sorta di volat, se lo vogliamo. Comunque, è sembrato bello, però, ecco... Diciamo che su questo, ecco, i timori che stessero riprendendo i lavori da capo, che quindi mancasse davvero tanto, sono un po' venuti meno, per fortuna, anche se non abbiamo ancora una data d'uscita, ma sarà presente sul Game Pass al Day One. Così come, presente sul Game Pass al Day One, anche Diablo 4 Vessel of Hatred, che è la nuova espansione, di cui ci è stata mostrata soltanto una scena, peraltro, molto ben fatta in CGI, che appunto mostra gli effetti su questo personaggio, su questa protagonista. L'espansione arriverà l'8 ottobre. Quasi, non ci speravamo più, però... Un trailer di Fable, io non me l'aspettavo, sempre molto divertente. Anfrey che t'ha fatto? Anfrey è un personaggio che racconta, perché lui è l'ex-eroe, lui è l'ex-eroe di Fable, che racconta la storia. Ormai in pensione. Ormai in pensione. E però, a parte Albione... Proprio Albione, ecco, vedi che lei esplora, parla con le persone, guardate anche le animazioni dei personaggi. Le animazioni fasciali, soprattutto, guardate quanto sono convincenti. I dialoghi, sì, sì, ragazzi, io, vabbè, ragazzi, questo è uno dei più attesi in assoluto, non mi aspettavo il trailer, però è stato svelato che uscirà nel corso del 2025. Ed è già tanta roba, ragazzi. Esatto, io pensavo quasi 2026, però... Eh, perché temevamo potesse essere, diciamo, rinviato a data da destinarsi, invece abbiamo, quantomeno un periodo d'uscita, un anno d'uscita, il 2025 è già tanta roba. Playground Games, secondo me, non solo hanno fatto un gran lavoro, tecnicamente parlando, ma hanno rispettato anche la sagace, il sarcasmo, quell'arguzia del brand di Fable. Ma poi anche l'atmosfera di Albion, no? L'ambientazione... Sì, 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 che poi proprio nell'ambientazione loro sono dei professori, perché avendo fatto... Forza Horizon, certo. Quelle le sanno fare, ecco. Spero che abbia anche le musiche meravigliose di Fable. Passiamo adesso a Frag Punk. Sì, questo è un... ecco, mancava il Game is a Service, c'è stato. Però anche questo, a modo suo, è stato comunque un po' più con carisma rispetto ad altri, no? Sì, perché... Per quanto alla fine il modus operandi sia quello. Sembra che tu, attraverso delle carte, possa attivare dei perk particolari. Sì, dei modificatori. Come per esempio ingrandire le teste dei nemici, per renderli più, per rendere gli headshot più facili. Sì, sì. Oppure, per esempio, attivare dell'erba che ti nasconde, oppure degli squarci che modificano l'ambiente, insomma. Per gli appassionati di questo genere di giochi, sicuramente questo può essere interessante. A me fa un effetto di, comunque, interesse maggiore rispetto ad altri, vedi qua e quando... Come se usassi dei cheat mentre giochi. Però in realtà è tutto legit. Sì, questo uscirà l'anno prossimo. Nel corso del 2025. Oh, ci siamo inteneriti abbastanza con Winter Burrow. Sì, questo è un intramuscolare però super carino di questo topolino che è un po' un survival, devi andare alla ricerca di risorse. Credo sia tanto survival, sì. C'è proprio una storia un po' strappalacrime in cui tu anche devi craftarti l'equipaggiamento, devi stare attento, devi sopravvivere. Vedi che qui stai congelando. Sì, e quindi lui si fa il cappellino, l'hush, l'hush. Sì, questo uscirà all'inizio del 2025, sempre nel Game Pass. 2025. Un altro titolo che è una world premiere, ovvero mixtape. Anche qua uno stile stop and go, stop motion che... Questo non si è capito moltissimo perché qui vediamo appunto queste ragazze che vanno un po' in auto, un po' skate, a volte volano. In una sorta di 80's style, cioè anni 80. Anni forse primi anni 90. Primi anni 90 o forse 2000 portati male. Sì, non ho ben capito il genere, dico la verità. Comunque sarà al The One nel Game Pass nel 2025. Però che vi devo dire, anche questo ragazzi a modo suo si fa notare. Così andiamo avanti con Microsoft Flight Simulator che ha mostrato tutti i possibili velivoli esistenti al mondo. Esatto, che saranno aggiunti. Pure quelli per l'agricoltura, pure quelli per l'ambulanza, quelli per il salvataggio, i velivoli commerciali, insomma tanta roba. Questo per gli appassionati di Flight Simulator e per gli appassionati di aerei anche. Esatto, l'espansione arriverà a novembre. E sarà su Game Pass. Il 19 novembre, sì. Il 19 novembre 2024. Passiamo a Life is Strange Double Exposure. Esatto, un nuovo annuncio con protagonista sempre Max Caulfield. Quindi abbiamo sempre lei. Il gioco arriverà il 29 ottobre del 2024. Questo sarà sicuramente attesissimo dei fan di Life is Strange. Come è attesissimo da me, invece, Indiana Jones and the Great Circle, ovvero l'antico cerchio. Che è stato mostrato con un trailer più cinematografico. Bello, bel trailer. Che ricalca molto lo stile cinematografico comico dei film degli anni 80, diciamo, 80-90, se vogliamo. 90, sì, sì. Devo dire che io sono legato indissolubilmente a Indiana Jones perché la mia prima avventura grafica... Sì, c'è la Mastronardi, signori, prima che lo chiedate. È la Mastronardi e dice pure ciao a un certo punto nel trailer. Sono indissolubilmente legato perché è stata la mia prima avventura grafica. Lucas qui ha disegnato un cazzo, ovvero Indiana Jones and the Fate of Atlantis e poi anche i film mi sono sempre piaciuto. Una cosa che mi ha un po' deluso, io mi aspettavo una data perché appunto, essendo previsto per il 2024, hanno fatto un trailer lunghissimo. Ho detto, vabbè, danno la data. E invece no, non c'è nessuna data, però è confermato il 2024. Quindi arriverà nei prossimi mesi, non sappiamo quanto. Per adesso accontentiamoci di sapere che lo giocheremo quest'anno, sperando che non ci siano rinvii, ma casomai ragazzi, pazienza. Poi abbiamo Makeup Break. Sì, questo è un intramuscolare a base di meca, intramuscolare per quanto mi riguarda perché non sono una fan del genere, però magari sicuramente se vi interessa siete dei fan. Magari se siete fan direte, ma intramuscolare che cosa? No, esatto, sa molto di Gundam, ecco, e uscirà nel 2025. Nel 2025. Ora, qualcosa che ci farà confondere con Wukong e Wolong come nome, ovvero Wuchang, Fallen Feathers, che però ha una protagonista donna. E anche questo, ecco, vorrei andare avanti per farvi vedere un po' il gioco in sé. Ecco, il Giappone, o comunque questo non è già, probabilmente non è neanche il Giappone, ma più Cina forse. Comunque l'Oriente, che sta spopolando ultimamente nei videogiochi. Noi volevamo tutti anni fa un Assassin's Creed in Giappone, quest'anno ci sarà anche l' Assassin's Creed in Giappone, ma nel frattempo tutti gli altri hanno fatto il loro gioco ambientato in Giappone. Anche questo sembra molto, molto interessante, sia come, come dire, suggestione, insomma, aspetto molto suggestivo ed evocativo dei paesaggi, e questo uscirà nel corso del 2025 disponibile nel Game Pass. Abbiamo visto un altro assaggio di Avowed. Avowed, esattamente come Indiana Jones, nonostante sia previsto per il 2024, non ha ancora una data, quindi è stato confermato il 2024, ma non sappiamo esattamente quando. Ricordo che Avowed è un gioco di ruolo di Obsidian, quindi gli autori di Fallout New Vegas, per intenderci. Anche per questo, ci siamo rimasti un po' come per Indiana Jones, senza una data, dove mi fai vedere già il secondo trailer, o addirittura il terzo. Sì, tra l'altro è un trailer che non è che aggiunga molto a quello che già si era visto di Avowed, quindi si focalizza sulle ambientazioni e sul combattimento, non aggiunge nulla, per esempio, sui dialoghi, che è la cosa che mi interessa di più. Perk, abilità che erano già state. Ecco, rimane sempre molto generico come approccio il trailer. Posso dire che anche graficamente, man mano che il tempo passa, lo digerisco anche meglio, e mi sembra che abbia il suo perché. No, 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 ma non è, ma... Perché tanti lo criticavano anche tecnicamente, ma a me non dispiace. Io lo aspetto tantissimo, ragazzi, questo. Sì, sicuramente, non sarà fotorealistico, però insomma, ma neanche deve esserlo per forza, è un titolo fantasy, insomma, ci può stare. Signori, Atom Fall, è stata una sorpresa. Questo tirato fuori dal cilindro non si sa perché, è una sorta di misto tra metro e fallout, non lo so. Però con fallout non sembra entrare molto, anche se si chiama Atom Fall, no? Cioè, nel senso, vabbè, sempre ha a che fare con Atomi, eccetera, però sembra più ambientato nell'est Europa e tra l'altro a metà del ventesimo secolo. Ci sono anche i robot, però. Sì. In prima persona, così. Sì, forse è un metro più colorato, ecco, non lo so. Un metro più colorato. Anche di questo sapremo di più, ma comunque uscirà nel corso del 2025 e sarà disponibile nel Game Pass fin dal day one. Abbiamo visto in anticipo, rispetto alla conferenza di Ubisoft, che ci sarà un nuovo trailer di Assassin's Creed Shadows. Abbiamo visto proprio il gameplay di Assassin's Creed Shadows, che finora non si era visto, cioè abbiamo visto solamente... È vero. Quindi questo è il reveal totale del gioco, con in particolare si concentra su lei, su Naue. Beh no, c'è anche Yasuke. Sì, c'è anche Yasuke. Vedi, ci fa vedere lo stealth, ovviamente, un po' cinematografico, per quanto sia un gameplay trailer. Sì. È montato ad arte, però... Però si vede, ecco, non lo so se Assassin's Creed ha fatto quel salto in avanti. Vabbè, comunque in generale è un gioco che aspetto tantissimo, quest'anno anche perché uscirà il 15 novembre. Ormai manca relativamente poco. Manca poco, e soprattutto domani ci sarà l'Ubisoft Forward alle 21. Vedi, quasi vedete il combattimento di Yasuke. Anche quello lo seguiremo in diretta. Sì. E non mancate, perché voglio vedere di più. Comunque, ripeto, a me sembra tipo uno di quei giochi molto onesti che ti danno il giusto equilibrio tra esplorazione e combattimento di due tipi, stealth e via dicendo, e poi il Giappone, insomma, che glielo si chiedeva ed è Assassin's Creed. È Assassin's Creed. Passiamo a Stalker 2, Heart of Chernobyl, che mancava da un po', diciamo, sulle scene. Abbiamo saputo benissimo che, insomma, il sviluppo è stato piuttosto travagliato. Sapevamo già che sarebbe uscito il 5 settembre 2024. La data è stata confermata, nonostante tanti problemi. Alla Gamescom dell'anno scorso si è presentato, livido, questo gioco un po' sbatacchiato con tanti problemi, bug, glitch e chi più ne ha più ne metta. Speriamo siano riusciti a risolverli, però, insomma, il trailer fa la sua porca figura. Sì, assolutamente. Uscirà quindi il 5 settembre e anche questo sarà disponibile sul Game Pass fin dal day one. Inaspettato, ma non troppo, perché i rumor, ragazzi, noi prendiamo in considerazione sempre i rumor più o meno giusti. Poi si sbaglia, per carità, però avevamo già preventivato nelle news della settimana, diverse settimane fa, una nuova versione di Xbox Series X All Digital. E in effetti ci sarà. Ma ci sarà anche una versione col disco di Xbox Series X, vedete quella di prima, Cosmic Black, con la base verde, con 2 terabyte e poi le stelline. E questa è la versione All Digital di Xbox Series X. Cioè, una sorta di Xbox Series X, ma Xbox Series X. Quindi niente handled, niente... Questo è l'unico hardware che hanno mostrato. Esatto, esatto. E poi c'è stata la One More Thing, la bomba finale. One More Thing, signori, io ci contavo. Io ci contavo. Nuovo Gears of War, i dei si chiama. Che dovrebbe essere un prequel. Allora, sembra proprio un prequel, perché a me sembra lui, Marcus giovane, e quello mi sembra Dom giovane. E quello è Dom, ma lui è Marcus, e quello è Dom. Sappiamo che Marcus ormai negli ultimi Gears è anzianotto, qui è giovane, quindi... Ah, sì, sì, ecco, guarda, c'è scritto nella descrizione del video, originale, tramite gli occhi di Marcus Fenix, nelle origini della sua storia. E qui, dopo vediamo Dom. Questo era solo un teaser, non c'è gameplay, il gioco non si sa quando uscirà, però si sa già che sarà nel Game Pass. Si chiama Gears of War, i dei, questo comunque trailer, questo ci voleva in ogni caso, non si sa quando uscirà, ma sappiamo che sarà nel Game Pass, fin dal day one. Signori, è su questo trailer che noi intanto vi lasciamo qui, sapete che questi trailer, questi video nostri di recap, sono più in presa diretta per essere molto sul pezzo, altrimenti poi perdono di senso, ma ci rifletteremo anche nei prossimi giorni, anche in live. Vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore, signori, ecco, devo fare anche la strada per andare a terminare la registrazione, grazie mille per essere stati con noi in tanti live e ci vedremo ancora in questi giorni con altri approfondimenti e soprattutto in live con voi. Adesso già stiamo tornando in live per il PC Showcase. E capite perché la necessità di fare un video un po' più ambresta ambresta. Ciao signori, grazie.